no, che ora era? è notte e un quarto e mezza è notte e un quarto e noi da che mese? da che mese? stavo tutto fresco, questo l'interpinio ma non credo che era notte e mezza a noi e un quarto allora era notte e mezza ma sicuramente sarà brutta no, no, sono partito già c'era roba brutta, c'era roba brutta già avevamo sparato prima ma qui e Mimo partimo a quell'ora no, c'era roba brutta aspetta, aspetta, aspetta scusa se siete troppo, se non mi scordo domani è lunedì mattina venite un po' più tardi perché è successo il problema da Cossainet mi ha detto proprio Costanza che non fanno le 8 e mezza se no venite fate come vi pare però magari stiamo lì cominciate a bestemmiare a 8,4 invece così cominciamo a bestemmiare già piove va va continua arcolì vedo questa no no era appena arrivata era appena arrivata era appena arrivata il giorno prima non c'è stava a scopare lì a fare marchetta fresca e fresca stava lì bella lavata infatti quando si è tirata da usare stava fresca bella lavata allora la chiappa vedete quanto vuoi io ho detto quanto vuoi per performa ho fatto a salire il motorino ho preso la portata e lì è giù ho usato quando l'era la portata? no sempre lì però l'ultima via è lunga lunga c'è San Ereti appoggiata che le frasche appoggiata lì l'ho incriccata tutti i problemi tuoi gli ha sfogato tutti i problemi stava lì ma poi è bello che secondo me c'era qualcuno che mi guardava dalla finestra perché io anche io sì perché c'era qualcuno che mi sentivo guardare alle spalle e poi com'era l'aride? guardate che cazzo mi frega a un certo punto questa qui stava così guarda appoggiata l'aride stava così me levo me levo un attimo no e questa stava ancora appoggiata qui ho detto qui ah sì allora continuavo ma una scopata allora il problema è tutto qua quanto sei quelli che gli ho dato i soldi gli ho dato i soldi gli ho pensato gli ho dato i soldi ma il problema è che ho lasciato 60-70 lasciate il mio ma consegno non cazzo sono andato sui vigni ho trovato una che stava stava